Parte di 5 dicembre 2023, qui per la rubrica titoli caldi dei videotips. Oggi andiamo ad analizzare uno dei componenti del ETF ARCA GDX, ovvero l'ETF che racchiude i principali titoli appartenenti ai Gold Miners. La richiesta ci è pervenuta da consulente finanziario a seguito di un post lanciato sul MarketBrit e peraltro a cui si è ricollegata l'idea per certificate della settimana passata, dove andavamo ad evidenziare la divergenza rialzista a favore del settore che in questo momento si sta creando tra i prezzi dell'oro e appunto l'ETF o l'indice rappresentativo dei Miners. Una divergenza che in passato, nelle rare volte in cui è venuto, negli ultimi 50 anni, ha dato luogo a dei rally abbastanza importanti da parte dell'indice. A seguito di questo post, oltre al certificate segnalato, c'è stato richiesto di indicare un titolo di nostra preferenza sul quale poter essere accumulativi, provare a fare una speculazione. Il titolo che abbiamo scelto anche grazie alla nostra intelligenza artificiale è stato Agnico Eagle Minds, A-I-M, che è il ticker presente sul NICE. Il titolo, vedremo fra poco, è davvero attraente tanto in termini fondamentali che in termini tecnici. Andiamo quindi a vedere quelli che sono i principali aspetti di tecnici, di price action, per poi dopo passare agli aspetti fondamentali e dare una raccomandazione, nostra raccomandazione discrezionale, sul titolo in questione. Bene, inseriamo i disegni, vediamo che il titolo, a partire dal minimo segnato a marzo del 2020, stiamo guardando al time frame mensile, un minimo a 48,61, ha iniziato a disegnare un triangolo di congestione sul mensile abbastanza interessante, che vede come minimi crescenti il minimo del marzo 20, ancora il minimo del settembre 22 e ancora il minimo dell'ottobre 23, da cui è partita una bella candela shaved rialzista che esprime forza bullish proprio sul titolo. Al contrario, i massimi decrescenti li abbiamo con il massimo del gennaio 21 e ancora del maggio 21 e ancora una volta il massimo di spike, dove c'è una forte, una importante buy side liquidity, una liquidity pool, a 63 e 39 dell'aprile 22 e ancora una volta sul massimo di spike, che è l'ultimo massimo significativo del maggio 23, peraltro sul ride dei precedenti massimi relativi, quelli del gennaio 23. Quindi un triangolo di congestione che dura ormai da più di 24 mesi, che darà luogo sicuramente a un movimento direzionale abbastanza importante. Quindi la trendline crescente sta sostenendo i prezzi, la trendline invece discendente sta bloccando i prezzi verso un'espansione rialzista. Perché ci sembra interessante? Anzitutto perché a nostro avviso la candela del settembre 23 promette e ha una buona configurazione che sia un order block, quindi un bullish order block, un blocco d'ordine rialzista in prossimità di uno swing, un 2-3 quasi perfetto, con un minimo decrescente, ancora un minimo decrescente e un minimo crescente. Con una candela di price action abbastanza forte, importante, a un punto di vista bullish, che ha creato un fair value gap ricompreso tra il massimo dell'ottobre 23 e il minimo corrente. Fair value gap che dovrà essere mitigato e che andremo ad attenzionare perché a nostro avviso costituirà nella mint threshold, l'area ricompresa tra i 50 e 30 più o meno, e i 52 e i 95, un livello di ingresso in via prudenziale, un livello di ingresso aggressivo, quindi con un profilo aggressivo, lo potremmo, un primo livello, una prima entrata aggressiva, la potremmo già fare sui prezzi correnti a 53 e 51. Un secondo ingresso proprio in quest'area, nella parte intorno tra 51 e 70 e 51 e 80, a parziale mitigazione appunto di quello che sembra essere un fair value gap rialzista. Order block appunto lasciato con la candela del settembre 23, questo potrebbe dar luogo anzitutto ad un avvicendamento di strutture, quindi da un trend laterale a un trend rialzista, solo con chiusure decise sul mensile al di sopra del massimo del luglio di 23 a 53 e 46, con primo target price, la buy side liquidity posta sul massimo di spike precedentemente detto del maggio 23 e 59,71, un 12% da livelli correnti, circa 6 dollari, un secondo target in caso di rottura di questo massimo, che farebbe anche da catalizzatore con la liquidity bull e gli ordini buy side, quindi gli ordini stop, che si annidono al di sopra di questo livello, per il secondo target a 9,91 dollari da adesso, un 12,52% di upside, e infine ad un target un pochino più promettente, quantomeno nel breve periodo, in area 68,56 a 15 dollari da adesso, un più 28% dai livelli correnti, dove sarebbe il primo livello, diciamo così, l'estensione di Fibonacci, uno a uno, di il movimento che si è andato a creare dal minimo a 42,89 del marzo 23, al massimo di maggio 2023 a 59, e 71. Secondo livello, con un orizzonte circa di 24 mesi, quindi un po' più orizzonte di lungo periodo, non di pedio periodo, potrebbe essere invece l'ultimo livello, in estensione 1,61,8 dai livelli correnti, rispetto alla LPDA range, segnato in precedenza, minimo massimo dell'anno 2023, in area 81,27, a 27,28 dollari circa dai livelli attuali, un più 51% dai livelli correnti. Scenario che sarebbe totalmente invalidato, in caso di chiusura sul mensile, al di sotto della Mint Ritual, dell'order block di alzista, della candela appunto di settembre, chiusura al di sopra di 46,94, invaliderebbero lo scenario, ci sarebbe una grossa probabilità, di un avvicendamento di trend, e quindi di una direzionalità ribassista, per andare a caccia della sell side di qui, di posta al di sotto del recente minimo, nonché al di sotto del minimo di spike, a 35,22. Lascio per ora fuori questo livello, che è l'ultimo, eccolo qua, livello, che è il minimo di spike del marzo 20, eccolo qua, lo tengo fuori, lo segno e basta, ma lo tengo fuori dalle nostre prospettive, perché attualmente lo scenario non mi sembra, sembra altamente improbabile, che venga, che sia nuovamente, diciamo così, che il titolo si diventi nuovamente, si è inserito nuovamente, all'interno della tendenza ribassista, quindi credo molto più probabile, anche per i fondamentali che vedremo fra poco, margini di upside abbastanza sostanziosi, nell'ordine di un 12% primo target, 18% secondo e 28% terzo e ultimo target, piuttosto che una discesa al di sotto dei 46,94. Guardiamo adesso i fondamentali, il titolo è un titolo che oscilla in un range minimo massimo tra 28 e 81, un range a 52 settimane tra 61 e 43, ci troviamo peraltro in prossimità dell'area di mezzo dei prezzi, è un titolo che ha una capitalizzazione di mercato importante, 26 billion con un dividend yield abbastanza interessante, 3%, un rapporto prezzo utili decisamente attraente, 10%, al di sotto della media di settore, ma anche al di sotto dello standard in PUR 500 e del mercato, un beta abbastanza difensivo di 0.71, ultimo pagamento, data ultimo pagamento di dividendi, il 30 novembre del 2023, rilascio dei dati e il prossimo earning lo avremo tra due mesi circa, 72 giorni, quindi siamo ancora lontani, guardiamo un attimo quelli che sono la panoramica da un punto di vista fondamentale, eccola qua, ciò che ci interessa andare a vedere sono le principali grandezze statistiche ed in particolare il prezzo utile a 10.24, appunto il prezzo sul price to cash flow, 11.98, quindi molto, diciamo così, abbastanza attraente se guardiamo alla media del settore e anche lo standard in PUR, un prezzo sul valore di Libra 1.36, decisamente in linea con la valutazione contabile, e un debito sul patrimonio netto di 0.11, quindi una prevalenza di equity rispetto al debito, alle possibilità consolidate, alle possibilità correnti all'interno del bilancio, 0.10 il rapporto tra debito a lungo termine e patrimonio netto totale, quindi una situazione finanziaria davvero interessante, un retorno in investment di 12%, un retorno in equity del 14%, quindi un'azienda anche da un punto di vista dei fondamentali abbastanza interessante, gli indicatori tecnici forniti da TradingView in questo caso sono in compra, compra al giorno, in un giorno, guardando in un giorno, compra guardando al time frame di osservazione settimanale e compra adesso, tra l'altro nelle medie mobili, quindi esprime un momentum, sul sommario di tipo mensile. Chiudo con la panoramica delle valutazioni da parte degli analisti e le previsioni, andiamo velocemente a vedere, il titolo è in Strong Buy, 14 analisti hanno espresso una previsione sul titolo, tutti gli analisti, 3 in compra, 1 in mantieni, pochissimi, anzi nessuno devo dire, in Strong Sell, o comunque in una direzione contraria, a quella che è la nostra aspettativa, 14 analisti offrono previsioni di prezzo a un anno, per Agnico Eagle Mines, con una stima di 73,58, massima, una minima di 56, e un valore medio del 23% di upside alle veri correnti, quindi in area 66,29. Quindi direi un titolo, che anche per fondamentali, risulta essere abbastanza attraente, ed in linea con quella che è la nostra previsione tecnica, quantomeno di andare a fare hitting sul terzo target, e sulla buy side liquidity, in area 68,56, a 15 dollari, dai livelli correnti. Detto questo è tutto, per il video tips di oggi, e per la rubrica titoli caldi, ci aggiorniamo al prossimo video tips, da Leonardo Franci, e da Nexit Advisor, vi auguro a tutti un buon proseguimento, di settimana, a presto. Grazie. 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 Grazie.